Temptation Island, Selvaggia Roma contro l'ex Luca Temptation Island, Selvaggia Roma e Luca si sono lasciati, i due si scontrano pubblicamente. E' già finita la relazione tra Selvaggia Roma di Temptation Island e Luca. Quest'ultimo ha dato l'annuncio proprio nella giornata di oggi, lasciando senza parole i fan. Infatti, l'ex fidanzata di Francesco Chiofalo, negli ultimi giorni, si era mostrata particolarmente serena a fianco di Luca. Per questa storia, Selvaggia aveva iniziato una vera e propria guerra social con Francesco. Ora la Roma ha scelto di dire finalmente la sua su quanto sta accadendo nelle ultime ore, attraverso un'intervista per Isa e Chia. L'ex protagonista di Temptation Island si dichiara ignara delle intenzioni di Luca. Pare che quest'ultimo abbia preferito chiudere la relazione con la Roma proprio attraverso i social. Questo comportamento non sarebbe stato apprezzato da Selvaggia, la quale sembra sconvolta per quanto sta accadendo. I problemi tra loro sembra siano iniziati con la convivenza. . E Luca a rivelare che la Roma ha scelto di non convivere più con lui, a causa di alcune discussioni. . Invece, Selvaggia dichiara che questa non è la verità. . La verità di Selvaggia Roma sulla fine della storia con Luca. Sono abbastanza sconvolta da ciò che sto leggendo in queste ore, ero completamente alloscuro di ciò che è accaduto. . Selvaggia è convinta del fatto che Luca non si sia comportato come una persona intelligente e matura. Io con Luca avevo intrapreso discorsi privati e non ho lasciato nessuno. . . . Purtroppo non ho capito nemmeno io cosa gli è preso. Da queste parole si percepisce la grande delusione di Selvaggia. Nelle scorse ore mi ero limitata a comunicargli che avevo intenzione di trascorrere unaltra notte fuori perché avevo diversi pensieri per la testa e mi sarei dovuta svegliare presto stamattina per lavorare. . La Roma ammette che non si sarebbe mai aspettata di trovarsi di fronte a questa reazione. L'ex di Chiofalo avrebbe preferito non vedere finire questa relazione con un annuncio sui social. . Luca si difende sui social e nega le ultime rivelazioni di Selvaggia. . Intanto, Luca continua a restare fermo nella sua decisione. . Tra lui e Selvaggia sembra essere ormai finita, come ha dichiarato questa mattina. . Luca non ha apprezzato l'intervista della Roma, tanto che ha scelto di obiettare. . Il giovane rivela, attraverso Instagram, di essere stato costretto a lasciarla, poiché alcuni atteggiamenti di Selvaggia non erano adeguati. . Luca dichiara che la Roma mancava diverse sere da casa, senza dire dove andava. . Il giovane non riusciva più ad accettare questa situazione e per questo ha scelto di lasciarla. . Inoltre, ammette di aver avvertito Selvaggia, Glelo sempre detto che se se ne fosse andata da casa, io avrei chiuso. . . Pertanto, Luca crede che la Roma avrebbe dovuto aspettarsi questa sua scelta. .